Ciao amici di Teletrof Games, buona Pasquetta, siamo a lunedì 13 aprile, siamo tutti a casa anche oggi e quindi anche io faccio il filmato delle novità di PES, altrimenti chissà dove sarei stato Allora, ecco qui i giocatori in risalto, tutti i rossi, perché sono i giocatori del Bayern Monaco e del Bayern Leverkusen Eccole qui Allora, vi dico subito che questa settimana c'è una campagna triple exp, cioè i punti di esperienza vengono moltiplicati per 3 nelle partite che farete e quindi è una cosa decisamente interessante Intanto vediamo che c'è anche un nuovo pool da collezione e vedo che in risalto ci sono le maglie di Bayern Monaco e Juventus Andiamo subito a vedere il profilo con le percentuali che sono sempre quelle Tiamo Messi, molto Bayern Monaco, molto Juve De Gea, Neuer, Aubameyang, Pobba, Rakitic, Pjanic, Lacazette, Dybala, De Jong, Kimmich, Vidal, Müller, Alaba che non mi dispiacerebbe Va bene, tutti i giocatori ovviamente in versione normal Però io versione normal di Messi mi piacerebbe E quindi io un giretto me lo faccio Vediamo che succede Così conti un'altra puntata della mia sitcom Io che non riesco a prendere Messi, Mbappé e Neymar Magari andiamo in Spagna, no, andiamo in Inghilterra Oh, palla nera però Vediamo un po' di chi si tratta Un portiere, perché ce n'ho pochi Si Si tratta di Leno Leno che sta a 86 Beh, per il momento lo tengo perché farò qualche altro giro di pull Per provare a prendere Messi Ma poi ho dei portieri veramente fantastici Tornstra e Rogic Ok Si, lo potrei anche togliere al pull Tanto è già uscito Comunque, vabbè, facciamo un altro Facciamo un altro giro Giocatori rimasti perché E vediamo che succede Magari andiamo in Spagna Vediamo Ma che Andiamo Extramondo E pallone Argento Chi si è, chi è, chi è Nacho Svincolato Benissimo Altro giocatore fondamentale per la mia squadra Nacho Abeid e Benavente Wow Tutti asp come pochi D'accordo Ultimo giro Almeno Farmi uscire la Spagna così Tanto per darmi una minima Possibilità Ma che è ancora Inghilterra Oh, altra pallanella dell'Arsenal E questo mi sembra proprio Che sia David Luiz appunto David Luiz 85 in versione normal I giocatori purtroppo Sono un po' inutili diciamo Rispetto a Yif Hernandez Che già avevo E Jansson Bene Per il momento non mi fermo qui con il pool Perché Non posso andare oltre Mi sono rimasti solo 60.000 GP E un minimo Devo Continuare a gestire la squadra Allora Bayer Leverkusen Vediamo Di chi abbiamo Portiere Cradecchi Finlandese 95 e 96 Alario 89 Tac 89 Contatto fisico 95 Volland 88 Che non è Holland Del Borussia Dortmund Bender 88 Difensore centrale Averso Trequartista Bellarabi Simpatico come nome Velocità 95 Accelerazione 97 Accidenti Niente male Questo CLD Diabi Esa 86 E basta Andiamo a vedere il Bayer Monaco Invece Abbiamo un Neuer 93 Che già avevo in squadra Pazzesco Un Lewandowski 93 Che già avevo in squadra Quindi Aumenta tutto Ma non c'è neanche un azzurro Tiago Alcantara Giocatore eccezionale Secondo me Trick 97 Passaggio alla sua terra 99 Lo adoro Kimmich Che med Io ce l'ho a terzino destro 92 Müller 91 Alaba 91 Hernandez Che ho prescatto In versione normale 89 Davis Che già ho 85 Velocità 99 Accelerazione 98 Io questo agente Non lo giro Perché a parte Müller Che seconda punta Non mi interessa E ha Alaba Che mi piacerebbe molto Gli altri giocatori Ce li ho tutti E quindi Si Mi potrebbero servire Per fare Esp Però Le monete Sono quelle che sono 270 Quindi Ci fermiamo qui Andiamo a vedere Le challenge Ci dovrebbe essere Qualcosa Di nuovo Coppa challenge online Andiamola a vedere Challenge nuove I premi Mi sa di no Però andiamo a vedere Un secondo Allora League challenge 4 bonti In 3 partite 25.000 GP I soliti Ah Vediamo se c'è Qualche particolare Sui bonus Il preparatore Esp 1000 E bonus GP partita 1 per 5 Il so Sostantemente Il solito Coppa challenge Contro Com Worldwide Clubs Ci saranno I soliti 1000 5000 GP Bene ragazzi Questo è tutto Per oggi Ci dovranno essere Anche Un'anteprima Parlava di altri Giocatori Venzi Di 4 squadre Probabilmente arriveranno Giovedì O chi lo sa O c'è stato Un errore in PES Masters Oggi Comunque abbiamo Bayer Leverkusen E Bayer Monaco Io vi ringrazio Per la visione Del filmato Buon PES a tutti Buona Pasquetta Ci vediamo Ci vediamo Giovedì Con il prossimo Filmato I PES E tutti i giorni Su Italia Top Games Sul blog I PES Italia Su videogiocaregratis.it Insomma Dove volete Giovedì prossimo Riprendi il TG Tech Si vince Un bellissimo gioco Per Playstation 4 T.T. Isle Of Man 2 Bel gioco Di moto Per Playstation 4 Grazie ancora Per l'attenzione E a presto Ciao